Il 27, 28 e 29 maggio 2016 presso il Circolo Lo Stanzone di Voghera nei locali del cinema Arlecchino saranno in mostra i disegni a matita che il pittore Sergio Bollani di Arena Po ha appositamente realizzato per commemorare il centenario dell'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale. Voghera è arte, Voghera è storia. L'associazione Voghera è di cittadinanza attiva e lieta di ospitare nella nostra città la mostra dal titolo L'altra faccia della grande guerra di Sergio Bollani. È una mostra di ritratti di gruppi di soldati senza armi che hanno combattuto nella prima guerra mondiale. I disegni di Sergio Bollani sono di notevoli dimensioni e si possono definire monumentali. La scelta del periodo, cioè di fare la mostra il 27, 28 e 29 maggio, è stata concordata con l'artista proprio perché è vicino alla storica data del 24 maggio, quando l'Italia entra in guerra. L'obiettivo, questa mostra ha una storia che è partita un anno fa, in coincidenza con il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale. E Bollani ha coltivato nel tempo quest'idea di raffigurare, lui si è trovato in casa, una casa che ha Arena Po, lui è di Pavia, delle fotografie di soldati senza armi, raffigurati così in una posizione con tutti i nomi. Evidentemente c'erano alcuni del posto di Arena Po, da lì poi è risalito attraverso internet e ha fatto un collage di quelle che sono le immagini di altre situazioni del genere, con soldati di tutte le armi. La più commovente è quella, quella da cui possiamo partire è quella che si vedrà bene in mostra, formato 3 metri per 3, cioè da una fotografia normale. Lui l'ha fatta usando la matita, lui usa la matita come strumento di… e questo dà un pathos importante rispetto alla fotografia. È qualcosa di più, se le dovete vedere, anche qui noi ne parliamo, bisogna vederle le cose. E anche questa dimensione giga, gigante, conferisce un ulteriore pathos all'immagine. Cos'è questa immagine di questo battaglione di soldati americani che stanno per tornare a casa? Sono raffigurati con alle spalle un paesino della costa francese. Da lì poi loro sarebbero ritornati, la guerra è finita e loro ovviamente sono tutti senza armi e hanno un… lo vedi che sono distesi. A questa fotografia Bollani ha poi voluto affiancare tutta una serie di altre immagini di soldati appartenenti ai diversi eserciti che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Tutti senza armi, cioè l'idea… vi ricordate che ci fu nel 1900… il primo Natale di guerra, della Prima Guerra Mondiale, vide i soldati francesi, i soldati tedeschi smettere di combattere perché era Natale e questi vennero duramente redarguiti e forse puniti per aver furicato questo fatto, questo fatto di amicizia. C'è un'altra fotografia importante riprodotta di soldati tedeschi. Pensate ai soldati tedeschi che noi siamo sempre raffigurati come feroci, terribili, col chiodo in testa. Allora questi soldati si fanno riprendere dal fotografo, poi anche le fotografie d'epoca hanno un fascino assolutamente diverso. Adesso noi siamo abituati a scattare con i telefonini, bruciamo una quantità di emozioni. L'inaugurazione sarà venerdì 27 alle ore 17.30. Invitiamo anche le scuole perché può rappresentare una importante lezione di storia, di arte ma anche di valori importanti come il valore della pace.